Buongiorno a tutti, oggi preparo il gelato fatto in casa, il gelato alla fragola con 3 ingredienti. Mi occorre 500 ml di panna fresca, 150 ml di latte condensato, 150 ml di polpa di fragole. Inizio a montare la panna. Nella panna non metto lo zucchero perché c'è nel latte condensato e nella polpa di fragole. Montata la panna, verso il latte condensato. Se volete fare il latte condensato, guardate qui. Mischio il latte condensato alla panna. Mischiato il latte condensato, aggiungo la polpa di fragole. Allo stesso modo, se volete farla, cliccate qui. Ora mischio anche la polpa. Mischio un poco con il leccapentole. A questo punto l'ho verso nella vaschetta del gelato. Naturalmente deve essere una vaschetta per un chilo. A questo punto chiudiamo. Lo metto nel congelatore per tre ore e poi vi faccio vedere come viene. Dopo tre ore di congelatore è pronto e vi faccio vedere la consistenza. Ora si può servire. Pronto da gustare, bello fresco, genuino e fatto in casa. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.